Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo a Vlad e Nicky. Ed eccolo qui. Un nuovo episodio di Vlad e Nicky. Iniziamo a sbloccarlo. E il fratello ci ricordiamo come si chiama. Ehi Vlad, c'è un rumore metallico, proviene dal motore? Puoi aprire il cofano? No. Ma certo, prima dobbiamo solo aprire tutti questi lucchetti. E il fratello... Ma però voglio farlo... Questo è un uovo. Episodio che parla di macchina. Di macchine, penso. Ah, dal meccanico forse. Una ruota di scorta. Delle rondelle. Qui dobbiamo aggiustare il motore. Fai leva. Ho capito. Dommato del... Forse gli tocca con le dita. Aspetta. Si devono fermare tutti e tre sopra. Ed ecco qua. Aspetta qua. Una bella chiave. Qui uscirà una chiave. No. Una chiave inglese. E forse può servire qualcosa. Aspetta, qua si deve alzare e abbassare. Ok, quindi alzare entrambi perde l'olio. Quindi penso che la chiave va bene. Alza un altro po'. Alfonso. Ok. Mattia alza tu. Di qua. Alza. Ok. Fermo, fermo. Ok. Dritta. Spugna. E... Ma è l'erbe. Ma è... Ai. No. Non si ferma. Ai, ma sto facendo la bufù. Mi chiave, forse è... Non è crescente. Vabbè, fermiamo. Se non la tocchi. Attimo questa qua. Ok. Aspetta. Questa si randa. Non si apre. Non si apre. Le ruote. La spugna. La spugna. Ho capito cosa serve la spugna. Aspetta. Apri la strada. No. No. Non si dove viene. Dai. Sì. 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 Prendi i pezzi da sopra adesso. Vai. Fai presto. Fai due. Anche la chiave. Arancione è stata trovata. Spugna. Spugna. Devi spruzzargli prima l'acqua. Dove si fa? Tocca il rosso. Ok. Vai. E non si va l'acqua. Tanta schiuma, tanta schiuma. Finita la schiuma. E la tua fibiglia poi. E... Accendi. Adesso prendi la spugnetta. E laviamo. E ora è come nuova. Wow. C'è anche un po' di spugna. Di schiuma? Non di spugna. Ah ah. Questo che cos'è? Questa è una pompa idraulica. Oh no è difficilissima. Devi guidare. Dobbiamo prendere tutte le stelle. Stella, stellina, la notte si avvicina. La fiamma traballa, la mucca è nella stalla. E adesso come vai? Ritorna a fare il giro giro tondo. E casca il mondo. Casca la terra e tutti giù per terra. Ma... Devi girare. Ma devi girare. Giro, 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 giro tondo. Casca tutto il mondo. E lui va... Vedi come la prende? Va subito sulla stella. Vedi? Devi fare tutto il giro. Vai. Ok. Siamo pronti a... Prendere la stella. Stella, stellina. Quante stelle dobbiamo prendere? Dobbiamo creare il cielo. Ah, si deve riempire la barretta sotto. Sì, sì. No, gira! Attenta le aiuole. Sì? Per poco. Di qua? Sì? Sì? Gira! Gira! Anche quella verde. Iniziamo a mettere... Questo? Che giuro è? È prima questo. Ah, i gas. Gas! Lo devi collegare. Collega. Come? Collega. Ah, questo qui. Questo qui? Questo ha le ruote. Alle ruote. Alle ruote. Se no non gli metti prima... Ecco, basta. Vai. Diventa... 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 Diventa un'altra chiave. Ma tieni, inizia a mettere le chiavi. Sì, ma il kit... Dai! Abbiamo fatto un sacco di miei giochi. Arancione... Arancione... Dai! Viola... Verde... Verde... E rosa. Nove... Tre... Tre... Sette. Sette. Yeah! I sui te con le bambi! Aspetta. Un'altra chiave. Questa... Vabbè, questa abbiamo già aggiustato. Poi, cosa ci manca? Il cappellino qualcosa mi dice. No, questo. Sì, ma quando arriva l'agganci. Tira, tira su. Sì. Tira su. Questo? Cos'è? La macchina arriva. Adesso. Qui si alza. E? E? I? No. Ah, si smontano le ruote. Poi? Dobbiamo montarle queste? No. Le nuove? No. No. Ah, ci sono di quattro. Sì, sì. L'ho fatto. Ok. Di qua? Di qua? Che dobbiamo fare? Aspetta, ci stavano di fuoco ancora. Ecco, una ruota. Non si prende. Non troviamo inglese, è l'ultima. Sì. Andiamo a mettere. Vai. E? La chiave? Grigia. Questo cos'è? Oh, mio Dio. Tutti mi riempi. Ah, un puzzle. Ed eccola qui, l'altra chiave. Del super enigma che abbiamo fatto. Di tutte. E abbiamo finito dopo un'ora. Queste macchine. Perché? Non ce lo fa cliccare più. Difficilissimo. Ok, quindi adesso dobbiamo vedere perché questa macchina perde. L'ultima. Qui c'è la? No. Questo si muove. Perché si muove? Si gira e poi? Questo non è della macchina. Questo non è. Questo l'abbiamo fatta. Aspetta, ci sono dei tubi sopra. Eh, ok, dei tubi. Ma dobbiamo vedere. Andiamo a mettere queste chiavi. Non abbiamo ancora trovato. Ok, Mattia, metti le chiavi. Però per l'altra macchina ancora una ruota non l'abbiamo trovata. Ma non abbiamo trovato niente, veramente. Non abbiamo trovato solo una ruota. Vabbè, fammi contare io. Aspetta, voglio vedere. L'ho messo. L'ho messo. Ti rendi giù? Ancora di più. 8, 1. 8, 1. 4. Guarda, non mi raccontare io. 8, 1, 4, 9. Bravissimo. Valla a mettere. Metti qua. No. 8. 8. Non so fare. 8, 1. 4. 4. 9. 9. Bravissima. Viva il rosa. Gira. Ah, dobbiamo disegnare. Dobbiamo disegnare delle ruote per questa macchina. Vai perfettamente. Bene. È tutto storto. Cos'è? Dobbiamo disegnare delle ruote. Colorala tutta all'interno dopo. Vedi se te la fa colorare. Sì. Vai, vai. Così la fai bella doppia. No. Non si lo fa fare. Non si lo fa fare. Non si lo fa fare. Un altro camion. È arrivato. Perché abbiamo abbassato questo. Togliamo le ruote. Togliamo le ruote. Ruote quadrate. Ruote quadrate. Quindi dove sono queste ruote? Bravo. C'è da guardare. Prima. Ed eccole. La seconda quadrate. Ce ne va. Ce se ne va. Ce la farà? Difficilmente. Credo di sì. Adesso. Cosa arriva? Oh! Una Ferrari! A triangolo. La seconda sarà un po' E un cuore. Abbiamo fatto quasi tutte le forme geometriche. E la sorellina. Ho sentato le macchie. E c'è notato la chiave rossa. Ora, qua che dobbiamo fare? Mi stiamo sciendo. Do. Uno sotto. Ok. Ok. Ho sbagliato. Ah! No, è andato, è andato. È andata. Ok, non c'è solo la chiave blu. È quella macchina. Questo è sicuro. L'indizio del gioco ci sta dicendo di alzare a destra e a sinistra. E adesso? E ora? E ora? E ora? E ora? E ora non abbiamo capito. A toccare? Chiamo. Oh mio Dio. E io avevo bisogno di toccare. Anche io avevo bisogno di toccare. E adesso è completato. C'è la macchina. Sporca d'olio. E l'ultima che abbiamo trovato è... E... La blu. Sì. Paraparapam. 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 Evviva! Il cofano è aperto. Allora, cosa è successo? Come siamo finiti lì? Ciao ragazzi. Per questo video è tutto. Da me, Mattia e Vlad e Niki è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao! E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lasciate un like. E... Ciao! Bye!